away amici e non di gran turismo 7 bene ragazzi come ho promesso ritornavo a registrare un video di una retta massimo perché di più non posso registrare abbiamo superato i 2 milioni di crediti siamo quasi a livello 9 8 da mancare e quindi e quindi qua garage che vuole questo e quindi ragazzi un saluto a tutti i belli brutti un abbraccio a tutti la morte della guerra la molto ducovi della murtaccia di tutto quanto omaggi stella giriamo ovviamente che facciamo da una bella cosa da la madonna come faceva un e la madonna 5 o 2 marco 2 babbo babbo da seguiamo non mi ricorda che minchia dovevo fare devo andare a gareggiare dai circuiti mondiali seguiamo tutto ciò quello che dice luca all'avviso spazio insufficiente per dati temporanei e e come si fa le informazioni avviso spazio insufficiente abbiamo constatato che una quantità di spazio insufficiente risultati dalla rete può causare problemi con l'aggiornamento il problema risolto a ok dice che cazzo vuol dare questo ma questo abbiamo fatto sì dai ma è scasato la minchia allora dovremmo arrivare qui andiamo qui dai dai america challenge ma l'ho fatta questa c'è la macchia di staschia la man stocca ma l'ho fatta che c'è di sottofondo la ciugatrice che mi ha chitititin chititin 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 ma lo speriamo che è abbastanza preparata sta macchia nel senso sì mi fa che l'ho pompata già non è come a cazzo di cane mani c'è difficile da morta c29 c'è che la fiat c'entra in duna naso di gana sprena sprena dove stai andando la dog di gana stigio madonna mi pare se ne stanno andando questa pista mi ricorda mani c'è un 10 seconda dato già Ah, è quella Di Valentino Rossi con Tostone Giusto? C Minchia, raga, è difficile Eh, vabbè, dobbiamo recuperare la consiglia Ultima giro Parca troia Oh, mi dà, no Dai, 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 che li posso prendere, dai Dai, 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 dai Quattro secondi Tre secondi Pesut, pesut, pesut Pesut Eh, scusate Lì da nanzi Rossi Rossi c'è Sì, lì da nabra Axis fa Si sgomita Da Facciamo tornare alla normalità E portiamoci a casa questa grande vittoria Uh Ah, se Bella Sì, sì Un nome, una garanzia, one year Quindicimila credo Quindicimila credo, chizzo tu Bella mia Quella Ok 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 Devo fare qualche replicchiavico, devo registrare Adesso Adesso Dove andiamo? Che famo? Au Qui Ok In questa gara frontera Devo cominciare a giocare Altri spazi americani La classe 500 Ok Quindi terzo posto superiore Bella questa mansta Debbile 2015 Allora Allora Mamma mia Stasera c'è la Juve Domane stiamo in casa di integrazione Uh, dovrebbe essere l'ultimo giorno di marzo Chissà aprire com'è Sta guerra Sta guerra Non sappiamo com'è Ah, c'è la pista, tu Ah, ma puh Sto Ma dovrei fare Ci vuol dire Mi rimanio tutti Non struzzare troppo Beh, ho da una macchina di Ghostbusters, ragazzi Mi sa che l'avevo preparato un po' la macchina Per sviluppare Qui curva a sinistra in salita Te la ricordo Che può più o meno E' stato sempre E' stato sempre E' perché appunto E' una memoria I fanatici proprio Dicom'io Mi posso reputare Un fanatico di Di pezzi Adesso Ecco qua Ciao nico Ma dove cazzo vai, oh? Le muette da tante Dodge Uuuuuh Oh.. Croia Dove lo devo fare Va Ve lo appiamo un po' dai per 2-3 secondi vai 8 guarda qui dai 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 per i momenti sono abbastanza facili in questo caso ricordiamoci che prima o poi devo fare il quale col poteroncino che sono molto ma molto dura portarci loro questa è una fatta avvenza questo non lo devo sbagliare muoviti muoviti che il tempo sta volando dai accedere dai muoviti oh morca la mia data non riesca a prendere addrizzati 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 la dobbiamo rifare vaffanculo vai no facciamo così dai scumata no 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 nè e lo sai ragione zio e' ragione e' ragione lo dobbiamo rifare la dobbiamo rifare no che le pre riprovo ce l'ha maniscien la spalle attiva dai raga gomme un po prevedibili di da nanzi sop tu sop tu basta di da nanzi voglio fare una gara pulita alt un attimo generale chiama per chi non sapesse che generale e' la signora sicolo un attimo vai vai corri prendilo quello dobbiamo sgomitare dobbiamo prenderle stanno avanti a me non sono coincidentali dobbiamo 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 ok 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 3 secondi avanti a me stanno, quello è disonesto, dai dai che la posso prendere, dai che la pulita, senza intoppi, cerchiamo la linea direzionale, che cazzo è stato bastato, toglietevi davanti questo è quello che non è un bacchino di cazzo, non è pesato, scemani di scemo, andiamo sul venuto, abbiamo già un secondo e mezzo quasi, gara abbastanza pulita, non posso dire il contrario, un secondo se non uscire, non uscire, non uscire, non uscire, le muoette da tanti dai oh dai, così ti voglio, si, aggressivo ok, dai, abbiamo completato anche questo, perfetto, sì, dammi la macchina, non mi scassare i coglioni ok, ok, molto lunga, molto lunga, molto lunga, giù che bello per questo, che è molto lungo ok, muovasi Luca, scommettiamo, torniamo al caffè, sudditi, shmanin, andiamo al coffee non so se c'è una mappa russa, penso di no, dai eccole qua la collezione Mastag, ok dopo che avrò te ne riconosciamo, senti a mente vabbè collezione Mastag wow non è che l'ultima mi dispiacerebbe però però Mastag, una ricca, la prima generazione, ma dove se ne occupa un posto special nostro, è molto ovvio l'esposizione sarebbe bella eh sì Mastag sono delle macchine più potenti proprio ok 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 iniziamo hai una prima cosa che ne dici di una bella consigliere della Camaro? eh shmane, c'è una pica la Camaro dovrei tenere comunque ok fai la storia, ma la storia dove? non mi si scassa nu cazzo mai che cosa dovevo andare a fare adesso? ha detto le gare lasciamani hai ne fai giusto gareggiando la Camaro? che cazzo vuoi? e quindi? e quindi? il cambio auto nooo nooo mmm 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 nooo eh però impostazioni auto qua 600 con io vabbiamoci a preparare, andiamo a preparare la macchina dai 600, vediamo quanto possiamo arrivare con la masta 600 prima di tutto mettiamo queste ok e poi vediamo se li mettiamo questa no eh ok 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 ma che cazzo esci? porca troia stai fermo devo accendrarti dove sta? mmm mettiamo questa ok ok l'intercumbre kit freni vogliamo un bel un bel ahia e anche qua passiamo i 600 beh questi paremmo sempre comodo ok afflizione eh andiamo eh e questo nd e abbiamo pure l'estremo l'estremo aspettiamo ragazzi no ne è aaaaah la devo uscire da ma lì c'è ma possiamo uscire dai dai no madonna mia ooo giuffa ma ne ho ooo ooo Ohhhh Dai, 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 andiamo, tra un po' tempo stiamo perdendo. Dai, 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 che voglio iniziare a fare delle gare online, ma che è buono, a mano esce questa mano, pure quello è quello che ranno, eh. Madonna mia, che potenza di macchina, oh, tre giri, minchia, e che freni, oh, e che dura sta cazzo di gara, oh, grazie, ho capito, eh, ho capito sto cazzo, va a far soccolo, non c'è come difficile, dai, non voglio rifare, devo vedere se riesco a recuperarla così, sì, vabbè, ciao Nico, ecco qua sto cazzo, chiedo scusa, chiedi scusa, avete ragione, dai, 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 sinistro, 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 e destro, accelerazione un po' lentina, eh, parecchio lentina, accelerazione, muerta, data, dalle spagliate, porca noia, non voglio fare, non voglio recuperare, per recuperare Oh la maschera, la Pramala, la 200 Andiamo sul belletto, andiamo Scusi, l'ho fatta apposta Ma non volevo Cioè mi immagino all'errore, circuito in Francia, la Londra Nooo E' muerto, merito Che la sbali quella cazza che si può, e poi c'è la mappa là No 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 Già 6 secondi No No Cazzo Oh la muerta No Voglio migliorare il giro Che cazzo 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 Ne va Chi cazzo Che cazzo Che cazzo tante auto tutto il cazzo dai l'ho fatta questo con queste gomme auto mangio la camara a rete perché scusami perché sto rifacendo questo dai la storia facendo ma fossi sbagliati non mi ricordo la pista è questa ma non mi ricordo perché mi fa fare di nuovo questo sto già mi credo anche no non mi ricordo raga porca puttana da vabbè questa è la 600 quella è la 500 che cazzo sto a dire io la stessa gara con le macchine più potenti scusa non volevo chiediamo da i due finché sono qui dove stanno bene bella bella questa curva infrenata qua c'è la sabbia ancora qualcuno non l'ha capito frenare poco stare molto un po' sterzo e sgomitare ogni tanto da 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 non sto a c'è le lampo eh non sto a c'è le lampo boh boh dai non c'è finché solo un secondo piano abbastanza vantaggio per andare fuori pista mi raccoma prendete sempre dei punti di fregmento e poi accelerate qui si frena e si va in quella sinistra non c'è non c'è ok garantiamo io saprei io saprei buttati tutti 5 secondi 6 secondi la bocchina di ma fesù 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 maledetta a me maledetta maledetta a me Grazie a tutti. Allora abbiamo molto un bel regalino e anche questo ce la siamo portati a casa. Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro, Chevrolet Camaro, che cazzo sto a dire? Allora... Allora... Ok... O se faremo questa dopo, giusto? Non l'ho fatta. Ciamani, ciamani. Coffee? Coffee? Ah, mo' la storia di queste. Ok. Tutto x, tutto x ragazzi, tutto x. x, 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 è bella questa foto. x, 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 x. Sempre ricordiamoci PS4, voglio, PS4. 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 PS... 4. Vabbè, la storia di questa foto è la chiave che abbiamo fatto, vabbè. Va bene. 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 Ok, no, no, questa cosa qua, scatto una foto alla tua alta, ma anche no raga, che palle che è questa cosa, che è questa cosa, vabbò, si, beh, mo' ci vuole, ok, ok, e che devo fa, esplora, ingrandisci, ok, 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 si, vabbè, si, vabbè, no, e quindi? va, vai a fare in cura, ma, c'è ma cagato un cazzo, ma la foto un cazzo, manisci, ah, è qua, è che palle o sta cosa, però, eh, ah, che devo fare, madonna mia, e l'ho fatta l'altra volta, mi sa, poi posso aggiungere ancora due atti, no, un pochino, no, e quindi? ok, e quindi? scatto, la fangola, ma un po' sto a letto, ok, salviamo, ok, ok, oh, dai, ma l'ho fatto, non cazzo di foto, voglio gareggiare, eh, mi devi far gareggiare, ok, perché circuito mondiale, bocci, si, 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 ci, non c'è Già, demà. Di pò. tipo rally io ci riusciamo a farlo e devo cambiare auto sicuramente e che altro faremo ducicola basta ecco qua partecipa patente nazionale a e chi cazzo c'era no veramente come positi Grazie. Grazie. No, patenti, no, ragazzi, scusate, sto, no, ho letto una cosa. No, vabbè, no. Vedo sto. Non mi ricordo. E mo? Ah, centro patenti. E perché non ce l'ho io? Scus, queste. Le ho fatte tutte. No, madonna, qui do fare patenti, no, ecco perché. Vabbè, dai, la iniziamo e poi vediamo, dai. Orca puttana. Ok, iniziamo, dai. No, no. Grazie a tutti. Allora, principale, ok, conosci, vabbè io senza leggere le faccio, vaga, sapete come sono insomma, ok, impara a inserire il senso di un territorio esterno interno. Allora, dicendo se prendo il falacchi col volo. Allora, non devo frenare, apposta, vabbè, l'ho preso l'ora, vaffanculo. Allora, non devo frenare, apposta, vabbè. Allora, non devo frenare, apposta, vabbè, dai, due curve. Sì, sì. Sì, sì. 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 va, vabbè non so come farlo non so come cazzo affrontarlo, ragazzi, so sincero non so come farlo se quelle ore col cazzo la prenda vabbè, dai, non ci credo dai, ultimo è fermo, dai vabbè dai, cazzo, devo capire, perché la prima ancora l'ho fatta bene proviamo proviamo non 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 il Chief è il cazzo bocca puttana quando mi ha scazzato di poco 18 3 8 2 8 puttana difficile ma se non è difficile bisogna saperlo quale e gli amici stefano ferrari dj voglia maesina sino con route da merda che non so frecate vabbè raga devo chiudere ci vediamo al prossimo video ciao ciao quante ne sono poi ci facciamo un video solo per questo da ciao raga vi voglio bene